Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. La statale 223 di Paganico è chiusa in entrambe le direzioni, all'altezza del chilometro 53-500 in località Murlo, per un mezzo pesante incendiato. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Sulla FIPILI per lavori, rallentamenti in direzione Firenze tra Montelupo Fiorentino e Lastra Assigna e in direzione Mare tra Lastra Assigna e Ginestra Fiorentina. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 2 Cassia fino al 9 aprile per lavori è chiuso lo svincolo di Montalcino in ingresso e uscita in direzione Siena. Moversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!